Abbiamo fatto partire le verifiche in primis negli edifici pubblici e nelle scuole, considerata anche la data ravvicinata della riapertura delle scuole, proprio perché è importante capire a che punto siamo, quindi stanno lavorando loro, stanno lavorando i sindaci nei comuni. All'indomani dell'apertura del centro operativo comunale e degli sgomberi che hanno riguardato una ventina di residenti della città di Teramo, dove sei edifici sono stati dichiarati inagibili a causa del sisma, il prefetto di Teramo Patrizia ha visitato il comando dei vigili del fuoco, impegnati sin dai minuti successivi al terremoto del 24 agosto nell'assistenza e nel soccorso ai terremotati di Marche e Lazio. Solo nella giornata di oggi sono stati 305 gli interventi di verifica effettuati dai pompieri che continuano incessantemente a lavorare anche nelle emergenze in provincia, a Valle Castellana e a Crognaleto, ad esempio, dove il sindaco ha ordinato la chiusura del paese per un pericolo di frana legata proprio all'attività del sisma. Noi abbiamo un raddoppio, quasi un raddoppio di tornazione, ma soprattutto abbiamo dei rinforzi di Pescara e di Chieti, quindi dei due comandi regionali, perché sapete che anche l'Aquila è interessata, diciamo, da alcune problematiche dovute appunto al terremoto, ma già dalle prime ore, sapete, Teramo non solo è intervenuta nelle zone del sisma, nelle Marche in particolare, quindi ad Arquata, ma chiaramente poi passata, diciamo, la prima ondata abbiamo anche dovuto soddisfare le richieste della nostra provincia che sono abbastanza numerose. Nella riunione operativa tra prefetto e vigili del fuoco è stato affrontato anche il tema caldo delle scuole a pochi giorni dal suono della prima campanella. Nel Terramano diversi edifici scolastici sono stati lesionati dal terremoto e con ogni probabilità non ci sarà il tempo necessario per le riparazioni prima del ritorno sui banchi degli studenti. Qualche cosina ovviamente è stato riscontrato e ad oggi non sappiamo se effettivamente poi qualche comune o in particolare la provincia potrà garantire, diciamo, un'apertura, chiamiamola così, come da calendario di tutte, sistematicamente, di tutte le scuole.